Bella a tutti ragazzi, sciocariiii Benvenuti in kiwi Benvenuti e bentornati ragazzi Benvenuti, benvenuti Oggi ragazzi mi vedete con le trecce così Perché, perché, perché oggi ragazzi Torniamo a spoilerarvi, oddio spoilerarvi Se non avete visto la nuova serie di mercoledì Quello di Timbarton da Famiglia Adams Vabbè, lo sapete, lo sapete Quindi, quindi oggi torniamo a spoilerarvi E dirvi la puntata 5 e 6 Di questa nuovissima serie Oh, allora ragazzi, iniziamo subito Ma non prima Che vi siete iscritti al canale Attivate la campanella Mettete like, commentate E fa tutte le cose che dovete fare Sempre, insomma ragazzi Lo dico sempre, fatelo Fatemi sto regalo di Natale Iscrivetevi al canale E sa che ci sta Ci sta, di sto periodo Ci sta proprio Vabbè ragazzi Non perdiamoci in chiacchiere Iniziamo subitissimo Che a dirvi che La puntata numero 4 Si apre Con, con, con Con la giornata dei genitori Nel senso che A questa scuola Dove sta mercoledì Vanno i genitori Vanno i genitori Questa giornata È una giornata Insieme ai genitori Avete dei figli Cosa fanno Come, come la situazione Diciamo E la puntata si apre Proprio col fatto Che mercoledì Scopre Che il padre Era Un, è stato Era un assassino Perlomeno Si indagava Sul fatto che Lui fosse Un assassino E quindi La puntata inizia Proprio con Con, che si vede Il padre Da giovane Così che ha Trafitto Un ragazzo E quindi Si scoprono questi Si inizia la puntata In questa maniera Con questo alone Di mistero Di assassino Riguardante al padre Ma mercoledì Indagando Come fa sempre Gio Mercoledì Indaga Un po' Su tutti i cazzi Dell'art Indaga Vabbè Quindi Indagando Anche sul fatto Che il padre Potesse essere Un assassino Diciamo Scopre che In realtà Che questo ragazzo Era uno Che ossessionava La madre Di Ossessionava La madre Di mercoledì Quindi Che è successo Che succede Che il padre Viene arrestato Nuovamente A distanza Di 20 anni Diciamo A distanza di 20 anni Il padre Viene arrestato Perché Perché si scopre Che quello Che aveva Stava indagato Anni fa Sulla Non colpevolezza Del padre In realtà Si è Sparato Si è sparato Lasciando una lettera Dove diceva Io C'ho sto Sto croppo Sua cosa Su questo caso Ho detto Una cazzata Ho detto Una menzogna Ho detto Una bugia Diciamo Quindi Il caso Si riapre Il padre Viene di nuovo Arrestato E indagando Indagando Viene arrestato Pur mercoledì E la madre Perché iniziano A dissotterrare Il cadavere Di questa persona Che è stata uccisa Diciamo Quindi Vengono scoperte A dissotterrare Il cadavere E quindi Vengono arrestate Tutte quante insieme Però Mercoledì Indaga Sul fatto Su questa cosa Indaga Ancora una volta Indagando Indagando Si scopre Che in realtà È stata La madre Ad uscire Questo ragazzo Involontariamente Perché questo ragazzo Si stava scagliando All'epoca Si stava scagliando Contro La madre Lei è piata La spada E lui Si diciamo Si è autotrafitto Perché Lui si è trafitto Diciamo È andata a conto Quindi vabbè La madre Ha sfainato La spada Diciamo Ma l'ha trafitto Diciamo Quindi E si scopre Che in realtà Ha ucciso La madre Ma il padre Che stava Lì sul tetto Diciamo Gli ha piato La spada E si è piato Tutta lui La colpa Quindi Questo ragazzo Però Quando loro Stavano a scavare E mercoledì Così Gli ha tagliato Un dito Gli taglia il dito Gli taglia il dito Perché Perché C'ha Tipo un alone Bluastro Sopra il dito Che si scopre Essere in realtà Un veleno Cioè Questo ragazzo Voleva andare Voleva Avvelenare Tutta quanta La scuola Voleva avvelenare Con sto veleno Così Voleva avvelenare Tutta la scuola Quindi Nella lotta Che sta Mentre lottava Corpata E provato All'uccidere Così Nella lotta Nella lotta Si spacca Questa fialetta E il veleno Sopia lui Quindi inizia a morire E quindi Questa cosa Mercoledì La dice pure Al sindaco Che dice Vabbè Vabbè Famosi Cazzi nostri Vi liberiamo tutti Quindi La puntata Finisce Che Si libera Che mercoledì La madre e il padre Vengono di nuovo Liberati Ufficialmente Scarcerati E quindi Si scopre Che in realtà Questo tizio Voleva ammazzarli tutti Quindi Il sindaco Dice Vabbè Famosi Cazzi nostri Tutti liberi Tutti cosati Il caso Il caso È chiuso Quindi mercoledì Il padre e la madre Vengono tutti Scarcerati E finisce così La puntata E nel so Però mercoledì Anacerta Riceve Una visione Riceve come al solito Suo Riceve una visione Dove si Dove C'ha questa Dove vede Questo cancello Questo cancello Misterioso Di una villa E quindi La puntata Finisce Che Tutti liberi Con la visione Di mercoledì Che c'ha sto cancello Una villa Iniziando così La quinta puntata Dove mercoledì Gli viene fatta Una festa Sorpresa Dentro una cripta Diciamo Una cripta Così Mercoledì Toccando una parete C'ha sta visione Del cancello Alla fine Mercoledì Scopre tramite Anche a un amico suo Che è quello pittore Che è invaguito Di lei Scopre che Lui ha fatto Un ritratto Molto Molto così Molto Molto dire Gli ha fatto Un ritratto Però ha fatto Anche il ritratto De sto cancello Perché eppure Lui gli viene in sogno Sto cancello Diciamo Sto cancello In realtà Quindi Scott Dice Ma tu conosci Sto coso E lui dice Sì E' il cancello Della vecchia villa Di quello Che è stato ucciso Che è stato ucciso Nella puntata precedente E si scopre Che in realtà Questo qua Non c'ha nessuno Perché sono tutti morti Il padre è morto La madre è morta La sorella invece E' morta E' morta In una strana Situazione Cioè è morta In mezzo al mare Così In mezzo al nulla Diciamo Questa è una morte Che un po' Non è che Mi convince molto Diciamo Secondo me Sua sorella Bisogna indagare Perché viene inquadrata Molto spesso Durante la quinta puntata Quindi mercoledì Va a questa villa Va a questa villa E scopre Che da questa villa Però esce il sindaco Il sindaco Che fa una telefonata Al Narcoso Lo sceriffo Allo sceriffo Diciamo La telefonata Lo sceriffo E dice C'è delle cose Molto importanti Da dire Quindi lo sceriffo Va all'appuntamento Mercoledì Se mette nel bagagliaio Per seguirlo E quindi Mentre lo sceriffo Va all'appuntamento Per dirgli Le cose Che ha scoperto Dalla stavilla Della famiglia Di quello Che è stato ammazzato Nella puntata precedente Quindi Viene investito Da una macchina Così Senza targa Senza niente Lo sceriffo Viene investito Da sta macchina E muore Diciamo Anzi Diciamo Sta Stralavita Sta sul filo Del rasoio Diciamo Sta Stralavita E la morte Diciamo Quindi Mercoledì Esce dal bagagliaio E lui E quel sindaco E lo sceriffo Dice Tu che ce facevi Nel bagagliaio E quel Dice Che l'ha visto Uscire Da sta villa Così Della famiglia Di quello E quindi Gli dice Il fatto Quindi dopo Un giorno dopo Mercoledì Vanno tutti A questa Casa Tutti Vanno a indagare In questa vecchia casa In questa vecchia villa Va lei La sua compagna di classe E questo E un altro ragazzo Il barista Diciamo Che pure lui È invaguito Di mercoledì Quindi vanno Vanno a indagare Su sta casa E scoprono Che in realtà Mentre indagano In questa villa L'amica Di mercoledì Scopre Che c'è Sta una stanza Tutta bella Pulita E sistemata Che non è Da casa Abbandonata Diciamo E' proprio Una stanza Dove si vede Che sta qualcuno Che c'è Dome Perché è tutto Bello pulito Profumato Sistemato Quindi che succede Nel momento Che è mercoledì Sta vedendo Che se frega Nel momento Se frega pure Un coso Un carion Se frega Nel momento Che è mercoledì Si è fiata Il carion C'è sta l'amico Il barista De mercoledì Che grida Aiuta C'è sta Il goblin C'è sta Quel goblin Quel mostro C'è sta Quindi c'è Stava là Stava nascosto Da qualche parte Diciamo Gli è da Una bella Sdragnata Così Sopra al petto All'amico suo Diciamo Per ammazzarlo Però lui Tutti Tutti muoiono Da questo goblin Lui Si è fiata Solo con una Sdragnata Vabbè Quindi che succede Il goblin Si va Verso mercoledì Per ammazzarlo Così E scappano Diciamo Scappano tutti Questo goblin Che vuole E insomma Alla fine Il goblin Riesce A scappare Mercoledì Eppure Tutti quanti Riescono a scappare Mercoledì Va in soccorso Da amico Barista Che c'è un bello Sdragno Sopra il petto Così Trac Velo sdragno E va A casa De questo qua Ove del padre Dice Mercoledì Ma che cazzo Ha fatto E qua Dice E' stato Il mostro Che mi ha dato La sdragnata Quindi Mercoledì Torna In In collegio Diciamo Nella scuola Mercoledì Torna Nella scuola La La Direttrice Dice Stai Stai proprio Per essere espulsa Ma te man Amo a fanculo Quindi Mercoledì Dice Senti Non te conviene Non te conviene Mannar me via Perché Sto indagando Su ste cose Che A scuola Voglio far portare Di nuovo Ai splendori Che era una volta Perché stava Decadendo A scuola Stava un po' A deriva Quindi Mercoledì Io sto Indagando Su ste cose Anche per Risollevare L'umore La scuola Un po' Sagrappata Sui specchi Mercoledì Ti ammollo Così Ti dico Sta cazzata Magari C'è credi E ci crede E la Direttrice C'è credi Dice Vabbè Vabbè Per stavolta Vabbè Un altro passo falso E te Manna Fanculo Quindi Mercoledì Vabbè Siamo Fai Iamo Fatta E quindi Mercoledì Però Anacerta Viene abbandonata Perché pure La sua compagna Di Stanza Che stava Con lei Dice Mercoledì Qua ci stavi Ad ammazzare tutti A fare sta cosa Perché Per i tuoi interessi Baffanculo Io me ne vado Nell'altra stanza Tu Rimani Da sole Quindi Mercoledì È rimasta Da sola Senza la compagna Di stanza Da sola Manco il barista Perché il padre Ha detto No Niente vede più Perché Alla fine Ti ammazza Ti va a ammazzare Con tutte le fisse Sue Che c'ha Ste indagini Che va facendo Tu a lei Non devi di più Quindi Mercoledì Rimasta così Come nasce Tra una E ancora una volta Rimangono Come nasce Tra una Quindi Mercoledì Si vede Che sta Da sola Così Nello sconforto Della stanza E inizia a pensare Che effettivamente Un po' Da stronza Lo è Quindi Rimane da sola Perché tutti L'hanno manata A fanculo Diciamo E quindi Rimane così Infissa Guardare Stoccarion Che si è battuta Da casa Quindi pure Cleptomane Quindi mercoledì Anche Cleptomane Quindi Rimane così Da sola Nei pensieri Che sta Dici Ma è forse Un po' Stronza Lo so Stata E quindi Ragazzi Finisce così La situazione Della quinta E sesta Puntata Sono molto curioso Di vedere La settima E ottava Puntata Come finisce Come finisce Intanto A queste due puntate Li do un bel Li do un bellotto Saliamo Io l'altra volta Non ho dato il voto L'altra volta È stata un po' Moscetta Devo dire L'altra volta È stata un po' Moscetta Quindi L'altra volta Voto sei Queste due puntate Invece Voto otto Perché è risalito L'adrenalina È risalita bella L'adrenalina E vabbè ragazzi Noi invece Ci vediamo A un prossimo video Mi raccomando Iscrivetevi al canale E fatemi sto regalo De Natale Shokari